Eccellenze abruzzesi e stelle di calibro internazionale per la 43esima stagione concertistica dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese, che sotto la direzione artistica di Luisa Pryor verrà inaugurata sabato 21 ottobre alle 18 nei locali del ridotto del Teatro Comunale Antonellini. Con opere di Beethoven, L'Overture, Brahms e Tchaikovsky eseguite dal pianista rosso-americano di fama internazionale Alexander Cobrin e la direzione artistica del tedesco Alexander Meyer. Una stretta collaborazione con il Teatro Comunale di Teramo e di Atri sigla un sodalizio che rende la programmazione dell'Isa un'eccellenza nel panorama sinfonico nazionale e non solo abruzzese. La nostra stagione concertistica porta avanti dei discorsi. Intanto mi piace sottolineare che l'Istituzione Sinfonica Abruzzese garantisce a una vasta area una produzione di repertori sinfonici che danno vita delle stagioni sinfoniche che al di fuori di Roma sono le uniche che servono questa area appunto che va dalle città di Abruzzo ma alle nostre stagioni attingono anche città dell'Umbria, del Lazio, del Molise. Quest'anno per la prima volta eseguiamo in stagione una grande sinfonia di Bruckner, la quarta, la romantica. Secondo me questa è una grande novità per il nostro pubblico. Avremo anche delle opere di Mahler, il Ruckerts Leader, Sibelius, ma il nostro repertorio spazia da Pergolesi fino a Duke Ellington. Una stagione dedicata alle memorie di Ottaviano Ludovico Nardecchia, storico presidente Isa venuto a mancare lo scorso mese di marzo. Sì, senza altro questo è un omaggio che meritava il presidente che è scomparso nel marzo di quest'anno ed è un omaggio che facciamo con tutta sincerità e fratellanza nei confronti di Ludovico. Il programma, fra l'altro, prevede una serie di concetti che saranno illustrati dal direttore artistico di grande fascino, immagino, e che mi porta a affermare in questa tesi che l'istituzione culturale guilane, noi fra le altre, oramai siamo diventate parte decisiva del progresso della città, non siamo più soltanto strutture che fanno e operano nel campo della cultura, ma diventano parte decisiva nel progresso di una città che si vuole innovare sul piano tecnologico. In questo senso la stagione della Sinfonica produrrà programmi che attrarranno ulteriormente delle attenzioni su questa città perché saranno in un certo livello e così vanno fatte anche gli altri enti.